Baru e Jessica Selassie stanno appassionando gli estimatori del grande fratello Vip. Specie lui, con le sue frasi dette e non dette, sta creando notevole confusione nel cuore della princess. Ieri sera, complice qualche bicchiere di troppo, Baru è stato finalmente sincero con Jessica, confessando il suo palese interesse nei suoi confronti. Ieri sera non avevi capito, zero veramente. Perché te non cogli quella cosa, non ci arrivi? Non ho detto due cose diverse, ti ho guardato negli occhi e ho detto qualcosa che se avessi. Magari sarebbe scattato qualcosa. Jessica ha replicato. Non avevo capito, perché tu non sei chiaro? Devo leggere tra le righe, sono stupida. L'hai capito adesso? Perché hai detto due cose diverse? Ho capito, però sono stata tutto il giorno in confusione. Baru ha fatto capire a Jessica di essere interessato a lei e che avrebbe voluto anche baciarla. Voi cosa ne pensate? È l'alcol a parlare oppure il suo cuore?